La digitalizzazione rappresenta un'opportunità straordinaria per il nostro paese. In Amazon Web Services lavoriamo per aiutare le pubbliche amministrazioni a costruire servizi digitali in grado di migliorare la vita dei cittadini ed a consentire alle imprese di tutti i settori di crescere ed essere più sostenibili. Sin dall'inizio, l'impegno di AWS in Italia è stato sostenuto da continui investimenti che, entro il 2029, rappresenteranno 2 miliardi di euro. Il processo di trasformazione digitale è solo all'inizio. Il potenziale del cloud, unito agli investimenti del PNRR, saranno il nuovo motore di crescita per l'economia italiana e noi vogliamo essere al fianco delle imprese e della pubblica amministrazione in questo viaggio.